Waterloo 1913, Stella d'Oro 68, la Società Varesina di Ginnastica e Scherma, Stella d'Oro del 68, Società Canottieri Mincio, Stella d'Oro del 74, la Società Educazione Fisica Stamura SD, Stella d'Oro del 67, la Lega Navale Italiana Sezione di Bari, Stella d'Oro 2011 e l'Unione Sportiva Legnanese, Stella d'Oro 68. Bebe, che cosa ti ha colpito oggi, tu che sei di solito protagonista in pedana, oggi sei qui quasi da spettatrice, che cosa ti è piaciuto in modo particolare o c'è stato un intervento, domanda che faccio anche a Tania, che ti ha particolarmente colpito? Parto io? Secondo me il fatto di riuscire comunque ogni volta a dare dei premi a tutte le società, alle persone che si sono fatte un mazzo tanto nella vita e dicono, cavoli, se lo meritano e se meriterebbero questo e tanto altro, quindi appunto il fatto di riuscire a riconoscere tutte le loro azioni. Signori, vi prego un pochino di silenzio in sala perché siamo anche in diretta su Rai Sport 1. Tania, invece, qual è stato l'elemento che ti ha colpito di questa cerimonia di stamani? Io penso che dal primo all'ultimo che oggi è salito sul palco appunto si sia meritato questo collare d'oro e si sia meritato anche di essere ricordato perché tutti hanno fatto cose grandiosi sia in passato che adesso in presente e è bello ed è giusto appunto ricordare le persone che hanno fatto grandi cose e le ho viste salire con grandi sorrisi, quindi è bello averle visti tutti qua oggi. Grande soddisfazione. Grazie a queste società che hanno davvero illuminato la storia dello sport italiano. Ripeto, Proreco Poterlo 1913, la Società Baresina di Ginnastica e Scherma, la Canottieri Mincio, la Società Educazione e Fisica Stamura SD, la Lega Navale Italiana, la Sezione di Bari e l'Unione Sportiva Legnanese. Tutte dicevano il collare d'oro al merito sportivo. Ancora tre collari, poi passeremo. Siamo nella fase finale, una fase finale che vi suggerisco di non perdere perché c'è una fase importante, un riconoscimento a un personaggio che ha fatto la storia dello sport in Italia. Ecco, grazie. Dopo le società. E' il momento adesso di un altro collare d'oro al merito sportivo.